Ciao a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Oggi sono qua raga per portarvi una partita a mio parere molto molto interessante seppur breve, in quanto l'altro giorno sono entrato con il mio secondo account, Traceworm, e volevo provare a fare un paio di partite per fare tanti punti al minuto. La prima partita non mi è andata molto bene, infatti ho fatto una cosa come 5-600 punti al minuto che comunque sono decenti. In questa seconda partita che vi sto portando ragazzi ho fatto un desfo assurdo, infatti sono riuscito a totalizzare ben 1500 punti al minuto, infatti ho fatto ben 38 kills a fine partita in solamente 3 minuti senza usare le ricompense. Ora voi raga mi direte, sì vabbè mi di, ma non è che sia così difficile se ci pensi, quando fai un nuclear in 3 minuti, hai comunque fatto 30 kills in 3 minuti e non è neanche troppo impossibile come cosa, e non posso che darvi ragione. Solo che quando si gioca per un nuclear, nuclear lo si fa in una streak, quindi in un punto di gioco ben definito dove si magari controllano gli spawn, e comunque non si hanno le morti che comunque ti rallentano il gioco perché ti buttano assolutamente fuori da quella che è la zona di competenza. Tipo adesso se guardate da quando sono morto ad adesso sono passati quegli 8-9 secondi, quindi fare 38 kills in 3 minuti che più o meno arrotondando sono 13 kills al minuto, è davvero davvero molto buono. Più che altro è una partita che da guardare è sinceramente molto bella, perché ho iniziato e ho fatto subito un senza anima che avete appena visto, poi sono morto davvero da ritardato. Dopodiché adesso rinizio la streak e ancora in modo più aggressivo arrivo a fare un instancabile nell'arco di più o meno un minuto, e poi muoio purtroppo, anche lì come ho ritardato, però non avrei comunque potuto fare il nuclear perché poi le kills sarebbero giunte al termine. Ad ogni modo volevo proporvi questa partita perché è davvero davvero molto entusiasmante da vedere, poi ogni tanto anche un video corto penso possa fare bene, perché comunque è rapido da vedere, non porta via tempo, e comunque è carino da vedere anche per gli occhi. Comunque ragazzi, ritornando al mio account Trisworm, è davvero incredibile le statistiche che mi ci ritrovo. Io non sapevo di avere così tante kills, infatti ho ben 37.000 kills, che comunque sono tante, con un ratio di 5.00, ciò sta a significare che comunque è una cosa come 37.000 kills, e 9.000 e qualcosa morti, che è assolutamente decente. Comunque il video sta già giungendo al termine, non ero più abituato a fare video così brevi, infatti avrei parlato ancora un po', avevo un altro po' di cose da dire, che ero, va che morte di merda, che però probabilmente andrò a dirvi in futuro, in quanto qua il video è già agli sgoccioli. Spero davvero tanto che questa partita vi sia piaciuta, e vi abbia intrattenuto, difficile che non l'abbia fatto, in quanto non c'è stato praticamente un secondo di pausa, vi invito, mi raccomando, a lasciare un bel pollicione verso l'alto, commento se ancora non è te, iscrivetevi al mio canale, per oggi da Brini tutto e bella!